Giovanissima, pieni di talento, le opere di nove artisti delle piccole arti e dell'associazione i trafficanti saranno in mostra alla galleria d'arte contemporanea di Palazzo Dogana. In anteprima ve le mostriamo con le nostre telecamere. Tutto nasce dalla volontà di sensibilizzare i giovani all'arte e di offrire loro concrete opportunità. I segni, la fantasia, i tratti ben marcati messi a punto dagli artisti di Capitanata creano un cortocircuito di emozioni degni di un'esposizione d'arte che resta aperta fino al 26 febbraio tutti i giorni, dalle 17.30 alle 19.30. Non manca nulla questa mostra per riscuotere successo, serve soltanto un po' di curiosità e passione. Grazie. 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 Grazie.